Passano gli anni, passano i secoli, Passano i millenni, passiamo noi, eppure lei, eterna, è sempre la stessa, la montagna, la nostra montagna. Con il passare del tempo questo importante scrigno ha custodito dentro di sé alcune gemme preziose, le lingue. Ladino, cimbre e mochino sono solo alcune, fra le tante, preservate e protette dallo scorrere inesorabile della storia. Questo è il nostro viaggio nella Val dei Mocchini. Salas Perseghe Numadum è in Cinserlande, per il nostro biazio e il nostro barco. A questo qui ci sono il nostro barco è il nostro barco. Il nostro barco è un barco che ci sono un barco, ma il nostro barco è un barco. Noi ci sono un barco, non ci sono un barco. Il vero è importante. In questi anni, nel Brunno, abbiamo fatto un bacchamento. E si voleva coltare. Io penso che quando ero piccoli, non voglio che il Brunno spiega. Perché il Brunno è arrivato a lavorare. E ora il Brunno è un bacchamento. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti